Le periferie cambiano, Scola ci ha rappresentato le periferie con le baracche, con le cose eccetera. Poi Pasolini non ha mai raccontato le periferie in maniera comica, ma in maniera molto drammatica, molto vera, ma con molta poesia. Ricordiamo a Cattone e soprattutto ricordiamo a Mamma Roma e poi le periferie cambiano di colpo. Ecco che arriva quindi Calligari con l'amore tossico e poi oggi arrivano i fratelli di Innocenzo che guardano e esplorano la periferia. Allora, attraverso questi registri noi vediamo l'evolversi della zona periferica, come è diventata. Oggi è diventata indubbiamente più difficile, più cattiva se vogliamo, perché è sempre stata dimenticata dal governo, dallo Stato. È sempre così, non c'è mai stata una vera grande attenzione. Quindi dopo non c'è attenzione, dopo c'è solitudine, ci sono soltanto alveari, cosa vuoi che nasca?